Ciao a tutti, diavoletti, come state? Noi siamo su questa spiaggia... Vincis, ma aspetta! Adesso io voglio lanciare una sfida, diavoletti! Oh, ok! Diavoletti, riuscite a trovare l'emoji diversa in questa foto! C'è un'emoji diversa, diavoletti, c'è proprio un'emoji diversa! Non sono tutte uguali! Eh sì, avete dieci secondi di tempo! Soltanto dieci secondi iniziano ora, dieci! Nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno... Cosa? Ce l'avete fatta! Avete trovato l'emoji diversa? Siete super bravissimi, ma adesso quindi salutiamo qualcuno? Sì, lasciate un mi piace se avete trovato l'emoji diversa e commentate qui sotto con queste moji in tre secondi! Tre, due, uno... Avete commentato, ma siete bravissimi! E adesso noi salutiamo qualcuno che ha commentato sotto il nostro video, cioè... Oggi salutiamo... Maria! Ciao Maria! Ciao Maria, un bacione! Diavoletti, oggi è una giornata super bellissima! È una giornata super bellissima e noi ci stiamo divertendo, vero Anto? Non credi? Sì, ci stiamo divertendo! Ci stiamo divertendo molto! E adesso... C'è tantissimo sole! Sì, andremo a giocare! Andremo a giocare con questa palla! Proprio in acqua! Eh sì, andremo in acqua, diavoletti! Avete capito bene? Ok, andiamo Anto! Vinci, questo sarà il nostro primo bagno? Eh sì, il nostro primo bagno! Anto, volevo farti una domanda... Aspetta Vinci, voglio far vedere una cosa ai diavoletti! Guardate, diavoletti! Queste sono le mie scarpe! Eh, sono proprio bellissime, non credete? Sì, ma non avete ancora visto le mie? Oh, che belle Vinci! Guarda, guarda queste! Anto? Eh sì, qui c'è scritto Anto, c'è una Pokéball, qui c'è Super Mario! Guarda Vinci! Ok, Anto, aspetta! Aspetta! No, voglio far vedere Super Mario a tutti, guardate! Anto, queste sono le mie scarpe! Anto, allora, volevo farti una domanda! Dimmi! Tu hai mai mangiato le alghe? No, io non ho mai mangiato le alghe! Io non mangio le alghe! Sì, ma lì c'è una persona che sta cercando di mangiare alghe! Cosa? Sì, guarda, quella persona è lì da sola e sta cercando di mangiare le alghe! Ok, andiamo a controllare i diavoletti! Vinci ha visto qualcuno che sta mangiando le alghe! Aspetta! Vinci! Vinci! Adesso nascondiamoci! Nascondiamoci! Cosa? Diavoletti? Guarda, Anto, non ti stavo mentendo! Cosa? C'è una persona che sta mangiando le alghe? Perché questa persona sta mangiando le alghe? Ok Vinci, ma secondo me a questa persona piacciono le alghe! Ok, bene, andiamo via! Ok, andiamo via! Adesso non ho la mia curiosità! Sta continuando a mangiare le alghe, diavoletti! Vinci, guarda! Diavoletti! Noi siamo qui in un posto di che tema qualcosa mi dice che questa persona nasconde un segreto! Tu pensi che questa persona nasconde un segreto? Un segreto molto raro, Anto! Un segreto molto... Sì, raro! E spaventoso! Ok Vinci, continuiamo a nasconderci! Continuiamo a nasconderci! Quindi vorresti continuare a spiare questa persona? Sì, Vinci, nasconditi! Ok! Diavoletti, ci siamo nasconditi! Diavoletti, oggi succederà qualcosa di molto epico perché questa persona si sta comportando in un modo molto insolito! Vinci, cosa sta facendo? Guarda! Sta prendendo! Cosa ha preso? Quella è una stella? Sì, ha preso una stella dalla sabbia! Vinci! Ok! Attenzione! Potrebbe vederci! Potrebbe vederci! Quindi dobbiamo nasconderci! Resta nascosto qui! Noi non possiamo farci vedere! Bene, secondo me dobbiamo andare in acqua! E se quella persona fosse una sirena? Cosa? Ma cosa dici? Le sirene non esistono! Ok, secondo me dobbiamo andare con questa palla dritti in acqua dove eravamo diretti! Basta! Non voglio più pensare a questa persona! Che c'è, Vinci? Che c'è? Stai vedendo qualcosa di strano? Diavoletti, questa persona si sta comportando in un modo molto... Tu hai mai visto una conchiglia gigante? No, non ho mai visto! Cosa? Cosa sta prendendo? Vinci! Cosa? Diavoletti, cosa sta prendendo questa persona? Una conchiglia super gigante? Questa conchiglia è super gigante! Cosa? Sta parlando con questa conchiglia? Oh no! Diavoletti, guardate! Sta parlando con questa conchiglia! Aiuto! Potrebbe vederci! Perché parla con una conchiglia? Perché mangia alghe? E perché indossa una stella marina? Non lo so! Vinci, ok! Adesso, secondo me... Io ho un'idea! Vinci, ho un'idea! Noi non possiamo restare qui nascosti per tutto il tempo! No, e non possiamo neanche lasciare che questa persona stia da sola! Quindi invitiamo questa persona a giocare con noi! Vuoi invitare questa persona a giocare con noi in acqua? Cosa c'è di male? Vinci, sta rovinando il nostro primo giorno di vacanza! Noi dovevamo essere qui da soli! Oh, ti lancio la sabbia! Oh, Vinci! Io non... Non c'è altro da scoprire! Quindi, occhiali! Comportati in modo molto sereno! E andiamo a vedere cosa nasconde questa persona! Ok, andiamo a vedere cosa nasconde questa persona! Vinci, avviciniamoci, diavoletti! Ci stiamo per avvicinare a questa persona! Ciao! Perché non parla? Cosa prendi da sotto? Cosa? Diavoletti, ci ha dato qualcosa? Ha un regalo per noi, guarda caso! Si tratta sempre di regali marini! Non ho capito! Cosa dice? Dobbiamo prenderlo? Ok, prendiamolo! Questo delfino molto carino, grazie! Grazie! Ti volevo fare una domanda, per caso vorresti giocare con noi? In questo modo? Vuoi giocare? Perché ha paura? Tieni! Ok, vuoi giocare con noi? Eh sì! Oh, sta giocando con noi, Vinci! Non voglio giocare qui, voglio giocare in acqua! Cosa ne pensi di venire in acqua con noi? Vuoi venire in acqua con noi? No! Andiamo a giocare con noi? Cosa? Diavoletti? Scappando! Cosa? Avevo detto io, sapevo che questa persona nascondeva un segreto! Diavoletti! Hai visto? Oh! Adesso! Io non ho capito! Questa persona parlava con una conchiglia gigante! Mangiava le alghe! Mangiava proprio le alghe, diavoletti! Ehi! Cosa ti ha detto quella persona? Vinci, non parlare con la sua conchiglia! Quella persona nasconde un grandissimo segreto! Ok, non vuole venire in acqua! Diavoletti! Io ho molta ansia! Eh sì? Noi vogliamo giocare con quella persona in acqua! Ma perché quella persona non vuole entrare in acqua? Lo so, Anto, ma qui c'è un segreto molto più grande da scoprire! Questa persona... La persona è dietro di te! Ma... Diavoletti, questa persona non sa parlare! Ok, possiamo parlare... Con i segni, va bene? Ok, diavoletti, questa persona non sa parlare! Quindi possiamo parlare con i segni! Vi va? Ok! Ti piace andare in acqua? Ah, tu resti qui? Ok, quindi a questa persona non piace andare in acqua, ma... Ok, e come ti chiami? No, non capisco! Diavoletti, come si chiama questa persona? Non lo so, non riesco a capire! Sta andando a scrivere il suo nome sulla sabbia? Cosa? E... L... 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 E... L... L... Ti chiami L? Ciao L! Dai, vuoi venire con noi in acqua a giocare? In acqua a giocare! No? Noi dobbiamo andare a giocare con questa persona perché dobbiamo scoprire il suo grande segreto! Ok, Vinci, fai qualche domanda a questa persona! Ehm... Ok... Siediti! Diavoletti, adesso Vinci farà una domanda a questa persona! Ok, perché non ti piace andare in acqua? Non ti piace andare in acqua? Perchè mi risponde! Non lo so, non capisco neanche cosa dice! Cosa? Ah, vuoi restare qui sulla sabbia! Dice che vuole restare qui sulla sabbia! Dobbiamo fare così! Ah, dobbiamo fare così? Diavoletti, ma... Cosa? Ci sta lanciando la sabbia? Ok... Ok, bene! Eh? Ok... Quindi non vuoi venire in acqua? Ah, sta lanciando la sabbia anche a me! Ah, aiuto! Ah! Vuole trasformarmi in una sirena! Oh, Vinci? Che hai detto sirena? Pensi che questa persona sia una sirena? Sì, adesso chiedo a questa persona... Chiedo a questa persona se è una sirena! Oh no! Come va, diavoletti? Si sta andando a nascondere? Ok, Vinci, dobbiamo scoprire il segreto di questa persona! Perché non vuole venire in acqua? Eh, perché non vuole toccare l'acqua? Sì, ma non essere troppo avventato secondo me non è una sirena! Sirene, le sirene non esistono! Vinci, ma c'è un motivo per cui non vuole entrare in acqua? Diavoletti, anche secondo voi è una sirena? No! Vinci, la sirena ha detto... Non è una sirena! Ha detto no! Ok, tu sei proprio sicuro perché io non credo a quella persona minimamente! Ok, noi andiamo a giocare in acqua! Diavoletti, io e Vinci andiamo a giocare in acqua! No! Perché no? Perché voglio scoprire il segreto di questa persona! Ok, Vinci, io ho un'idea! Diavoletti, adesso faremo uno scherzo! Sì, faremo uno scherzo a questa persona! Quindi tu hai un'idea per scoprire il grande segreto di questa persona? Sì, Vinci, adesso noi andremo a fare uno scherzo! Sembra molto malefico! Sì, allora, questa persona non tocca l'acqua! No! Vero? Questa persona non tocca l'acqua! Con i suoi piedi non tocca l'acqua! E non vuole risponderci alla domanda! Quindi adesso noi faremo toccare l'acqua a questa persona! Ok, ma ho molta paura! Fai una cosa, fai una cosa! Tu resta qui! Resta qui con questa persona! Eh sì, devi tenere d'occhio questa persona! E se trasformasse le mie gambe in un pesce? Vinci, no! Adesso sono qui seduti! Vinci, oh! Ha dato il cappello a questa persona! Diavoletti, questa persona! Ok! Vinci, adesso... Oh! Cosa sta prendendo la palla? Vinci, gioca con la palla! Devi distrarre questa persona! Volevo giocare in acqua! Vinci, devi distrarre questa persona! Ricordi! Ok, bene! Hai ragione! Dai, gioca con la palla! Gioca! Vai! Giocate! Oh! Ok, stanno giocando! Mentre giocano! Mentre giocano! Io devo fare lo scherzo a quella persona! Eh sì! Mentre giocano! Adesso andrò a prendere un po' d'acqua! Eh sì! Un po' d'acqua dal mare! E lanceremo tutta l'acqua addosso a questa persona! Eh sì! Lanceremo tantissima acqua! Così scopriremo il suo segreto! Secondo voi, diavoletti, si trasformerà in una sirena? Chissà! Ok! Andiamo! Andiamo subito a prendere un po' d'acqua! Diavoletti, ma aspettate! Qui non ho niente! Devo prendere qualcosa! Devo prendere qualcosa! Loro stanno continuando a giocare? Eh? Stanno continuando a giocare! Eh sì! Stanno proprio con... Sì, mi sbrigo! Oh, ok! Diavoletti, stanno continuando a giocare! Ok! Oh, oh! Ok! Gioca, Vinci! Gioca! Sì! Ok! Oh! Vi prendo la palla! Per quanto tempo Vinci può distrarre questa persona? Dai! Tre, due, uno! Oh! Prendila! Oh! Ok! Ecco! Ok! Ecco fatto! Dai, giocate! Continuate a giocare! Ok! Adesso io prenderò qualcosa! Stanno continuando a giocare! Di nuovo! Ok! Adesso devo prendere subito qualcosa! Devo prendere subito qualcosa! Prendiamo qualcosa! Diavoletti! Ok, diavoletti! Ho trovato questo! Eh sì! Ho trovato proprio questo! Adesso andremo in... Eh? Cosa? Diavoletti, siamo in acqua? Eh sì! Siamo proprio in acqua! Ma noi non siamo tritoni! No! Non siamo sirene! Quindi? Adesso io riempirò questa bottiglia! Ecco fatto! Tantissima acqua! Qui dentro... Eh sì! Qui dentro c'è tantissima acqua! Adesso... Oh! Io devo lanciare tutta l'acqua addosso... Oh! A quella persona! Diavoletti! Potrebbe arrabbiarsi! Eh sì! Potrebbe arrabbiarsi! Ho veramente molta paura! Ma dobbiamo farlo! Dobbiamo scoprire il perché! Perché questa persona non tocca all'acqua! Diavoletti! Stanno continuando a giocare! Ok! Continuate pure a giocare! Che c'è? Vinci? Sono pronto! Sì! Sono pronto! Eh? Cosa? No! Perché no? Ok! Diavoletti! Ok! Sta scappando! Sta scappando! Perché questa persona sta scappando? Ok! Adesso! Sì! Vado! Adesso! Cosa aiuto? Diavoletti! Una sirena! Cosa? Allora non ci stavamo sbagliando! Questa persona nascondeva un segreto molto grande! Vinci! Una sirena! Oh no! Abbiamo scoperto l'esistenza di una sirena! Ha bisogno di acqua! Quindi dobbiamo aiutare questa persona! Vinci! Sirena! Vinci! Ok! Aiuta quella persona ad entrare in acqua! Ok! Diavoletti! Vinci sta aiutando la sirena ad entrare in acqua! Aiuto! Vinci il cappello! Oh! Sta succedendo un casino! Aiuto! Oh! Ok! Si sta arrotolando! Vinci! Ok! Diavoletti! Abbiamo scoperto l'esistenza di una sirena! Non ci posso credere! Guardate! Sì! La sua coda è super gigante! Vinci! Ok! Entra in acqua! Ok! Dove sta andando? Non andare via! Diavoletti! La sirena vuole andare via! Vinci! Adesso la sirena è in acqua! Oh no! Dobbiamo subito recuperare quella sirena! Potrebbe essere pericoloso! Vinci! Vinci! Ok! Secondo me dobbiamo avvicinarci! Secondo me dobbiamo avvicinarci! No! Adesso che abbiamo scoperto che una sirena potrebbe essere molto pericoloso! Potrebbe trasformarci! Potrebbe trasformarci in sirene! Vinci! Guarda! Sta continuando a nuotare! Diavoletti! Ok! Quella sirena sta proprio nuotando comodamente in acqua con la sua coda gigante! Ok! Sirena! Vieni qui! Siamo ancora noi! Siamo i tuoi amici! Vinci! Si sta avvicinando a porta! Non è che vuoi rapirci? Vuoi portarci sott'acqua? Guardate la sua coda! Ok! La sua coda è super gigante! Guardate la sua coda è super gigante! Ok! Ok! Ma ti ricordi di noi? Adesso che abbiamo scoperto che sei una sirena noi ti accettiamo sei ancora una nostra amica! Guardate la sua coda! Ok! La coda di questa sirena è veramente gigante! È super gigante! Attenzione! Ok! Ma adesso che abbiamo scoperto che è una sirena potrebbe magari mostrarsi qualche tesoro che si nasconde sott'acqua? Guarda Vinci! Adesso va sott'acqua! Cosa? Diavoletti? È proprio una sirena! Eh sì! È una sirena! Guardate! Vinci! Vieni qui! Avvicinati! Vinci! Guarda! Vinci! Ha trovato qualcosa! Che cos'è? Ok! Avviciniamoci! Abbiamo veramente molta paura di avvicinarci! Non è il caso di avvicinarci! Ok! Elle è da questa parte! Siamo qui! Ok! Cosa hai trovato? Cosa? Ha trovato qualcosa? Che cos'è? Ci ha portati una coda! Vinci! Questo è un piccolo gadget! Gadget in fondo al mare? Sì! È un piccolo gadget di in fondo al mare! Oh! Ok! Le onde sono veramente molto forti! Noi dobbiamo allontanarci da qui! Vinci! Ok! Ok! Adesso che abbiamo conosciuto una sirena, cosa dobbiamo fare? Non lo so! Dobbiamo... Grazie del regalo! Ok! Adesso puoi prendere un'altra cosa? Sta andando a prendere qualcos'altro! Ok! Quindi adesso ci porterà qualche altra cosa che si trova in fondo al mare? Vinci! La sua coda è super gigante! Sì! È super gigante! Eh? Vinci! Cosa ha preso? Vinci! Hai preso qualche altra cosa? Sì! Ha preso qualcosa! Ok! Adesso ci sta portando tantissimi regali che si trovano in fondo al mare! Che bello! Se ci portasse una funzione! El, dammi il regalino! Cosa? Wow! Questo è... Cosa? Sembra qualcosa di molto raro che si nascondeva sotto acqua! Oh! Vinci! Ok! Ok, diavoletti! La sirena si ha portati un altro regalo! Guardate la sua coda! Wow! Questa coda è super gigante! Ok! Cosa devo fare con questo? Diavoletti! Cosa sta facendo? Non si apre? Ok! Forse dobbiamo mettere quest'uovo in acqua? Ok! Forse secondo me dobbiamo mettere quest'uovo in acqua! Dai! Proviamoci! Oh no! E se fosse un uovo di squalo? Bene! Ah! Vinci! Si è rotto! Si sta scudendo! Che cosa è uscito? Cosa? Cosa? Oh! Ho proprio indovinato! Un uovo di squalo! Tiralo fuori e lasciamolo libero! Ok! Aiutami! Un uovo di squalo? Ah! Un uovo di squalo! Potrebbe morderci? Sì! Potrebbe morderci! Ok! Quindi non possiamo... Perché coda? No! A me piacciono molto gli squali! Potresti trasformarti in una sirena! Vai! Cosa? Vinci non può trasformarsi in una sirena come L! Diavol... Ah! Vinci! Oh no! Ah! Diavoletti! Mi hanno lanciato la sabbia! Loro due nascondono un segreto! Mi stanno nascondendo un segreto! Diavoletti! Mi stanno proprio nascondendo un segreto! Ok! Devo scoprire quale segreto perché Vinci... Eh? Non può diventare una sirena! Oh no! Oh no! Ehi! Sirena! Sirena! No! Tu non puoi dare! Vinci! Non puoi bere questa pozione! No Vinci! Non puoi bere questa pozione! Vinci! Devo subito fermare Vinci! Non puoi fermarmi! Non puoi fermarmi! Armai ho fatto la mia scelta! Vinci! Dammi... Dammi subito questa pozione! Ti voglio dare questa pozione! Ok! Dammi questa pozione! Ok! Non so dammi la pozione! No! Io non ti do questa pozione! Tu non puoi diventare una sirena! Ti stanno mettendo strane idee in testa! Io non avrò più i piedi! E avrò una coda bellissima! Vinci! Ma vai a dormire! Vinci! Non puoi bere questa pozione! Potrebbe essere molto pericoloso! Diavoletti! Vinci vuole bere una pozione! Vinci! Non puoi bere questa pozione! e si trasformerebbe in una sirena! Quindi vediamo se Harry adesso sa fare qualche incantesimo! Cosa? No! Vuole prendere? Oh! Vuole prendere la mia pozione? Diavoletti! Con un incantesimo? Cosa? Oh! 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 Cosa stanno facendo? Oh! Oh! Cosa? Hanno preso la pozione? Sta facendo trasformare Vinci? Ok! Possiamo parlare un attimino? Allora, Sirena, puoi far cambiare idea a Vinci? No! Ok! Smettila! Non ho nessuna intenzione di cambiare idea! Cosa? Sirena L ha detto che io non avrò più i miei piedi! No! Vinci! I tuoi piedi! No! Le tue gambe e i tuoi piedi! Non possono sparire! Non puoi diventare un pesce! Come questa Sirena! Ha detto la Sirena L che io sarò un pesce per solamente una settimana? Eh? No! Ti sta mentendo! Sarai un pesce per tutta la vita! No! Ok! E ci sono figlia del super roccio! Vinci! Non bere! Vinci! Non bere questa pozione! Non bere questa pozione! Non farlo! Ok! Lanciamo la sabbia a Vinci! E lanciamo la sabbia a quella Sirena! Ok! Diavole! Cosa? Nel frattempo Vinci sta bevendo la pozione! Vinci! Vinci no! Oh no! Diavoletti! Adesso ha... Cosa? Vinci! Hai bevuto tutta la pozione! Vinci ha bevuto tutta la pozione! Ok! Adesso sì che sta succedendo qualcosa di grave! Sta succedendo qualcosa di grave! Vinci! Vinci! Ok! Perché Vinci non mi parla? Perché Vinci... Cosa? Vinci! Ci sei? Vinci! Diavoletti! Vinci non mi sta più parlando! Cosa è successo a Vinci? Cosa ha fatto questa pozione? Cinque minuti! Ma... Cosa? Le gambe di Vinci stanno tremando! Vinci avrà la coda come questa Sirena? Fra poco vedremo Vinci con questa coda! E noi non possiamo fare niente! Ci stava ingannando! Ok! Ti meriti della sabbia! Già! Aspetta! Ok! Diavoletti stiamo ancora aspettando ma non succede niente! Vinci! Cosa? Eh? Cosa? Vinci! Hai anche tu una coda! Cosa? Adesso tutti e due siete sirene? Vinci? Anche Vinci non sa più parlare! Ehi! Oh! Aiuto! Mi stanno lanciando la sabbia! Diavoletti! Perché mi lanciano la sabbia? Ok! Diavoletti! Eh? Che c'è? Eh? Volete andare a nuotare? Cosa? Aiuto! Stanno andando a nuotare! Eh? Ok! Insieme! Diavoletti! Adesso andranno via per sempre! Andranno via per sempre! E mi lasceranno qui! Di certo! Vinci! Non farlo! Non ti ricordi di me? No? Ok! Quella sirena? Ha fatto un incantesimo! Ha fatto qualcosa! Perché Vinci non vuole essere una sirena! Eh? Guardate la coda di Vinci! Guardate la coda di Vinci! Eh? Diavoletti! Guardate! Mi stanno schizzando l'acqua! Noi non dovevamo avvicinarci a quella persona! Non dovevamo avvicinarti a te, Elle! Sei stata molto cattiva! Ci stanno salutando? Dove state andando? Diavoletti! Vinci! Eh, Elle! Stanno andando via per sempre! Oh no! Cosa? Diavoletti! Elle è in acqua! Anche Vinci è in acqua! E guardate! Ha una coda! Eh sì! Non è più un essere umano! Ha una coda! Oh! Io non dovevo schizzare l'acqua ad Elle! Elle mi ha fatto un dispetto! Mi ho fatto un dispetto! Eh? Cosa? Dove stai andando? Non allontanarti! Si stanno allontanando! Oh no! Ehi! Venite qui! Dove state andando? Guardate! Vinci ha una coda! Vinci ha proprio una coda! Eh? Guardate! Aiuto! Aiuto! Dove state andando? Eh? Ok! Eh? Mi stanno salutando? Diavoletti è molto! Oh! Vinci! Sta andando sott'acqua! Eh? Cosa? Oh no! Sono andati via per sempre! Sono andati via per sempre! Vinci! Elle! Vinci dove sei? Oh! Diavoletti! Adesso come faccio a richiamare Vinci? Come faccio a richiamare Vinci? Diavoletti! Oh! Abbiamo perso per sempre Vinci! Io sono qui e ho le gambe! Vinci! Come posso fare? Devo trovare un modo! Devo trovare un modo! Per trasformarmi in una sirena! Eh sì! Devo trasformarmi in una sirena! Diavoletti! Sto piangendo! Sto piangendo! Adesso Vinci è in quelle acque! E adesso? Vedete qualcuno dietro di me? Voi vedete qualcuno dietro di me? Oh! Cosa? Un pirata! Diavoletti! Qui c'è un pirata! Qui c'è un pirata! Dovremmo avvicinarci? Forse mi aiuta! Eh sì! Forse mi aiuta a diventare una sirena! Ok! Ehi! Ciao pirata! Tu hai mai visto una sirena? Sì! Molte volte! Molte volte! Ok! Ok pirata! Ma tu sai come? Trasformarsi in una sirena? Sì! Oh! Sì! Diavoletti! Ok! Adesso questo pirata mi aiuterà? Oh! Commentate qui sotto con un cuore rosso se devo trasformarmi in una sirena per aiutare Vinci! Cosa? Avete commentato? Ora devi trasformarmi! Ora devo trasformarmi? Guardate! Lì c'è una cosa molto scioccante! Io sono molto triste! Sto piangendo da tantissimi giorni! Perché Vinci adesso è... Eh sì! Guardate! Questa è una sirena! E Vinci adesso ha proprio una coda! Non ha più le gambe! E non sa neanche parlare! Guardate! Non sa più parlare! Vinci mi senti? No! E qui c'è un'altra sirena! Guardate la sua coda! Aiuto! Ok diavoletti! Ho veramente molta paura! Ho veramente molta paura! Eh? No! Cosa? Eh? Ah! Non vi piacciono le mie gambe? Cosa? Mi stanno lanciando la sabbia e stanno mangiando le alghe? Ok! Cosa? Mangiano le alghe? Oh! Ok! Diavoletti! Eh sì! Ah! No! Io non voglio mangiare le alghe! Vinci! Non devi mangiare le alghe! Non devi! Cosa? No! Vinci! Perché mi lanci le alghe? Ok! Diavoletti! Io sono molto spaventato! Devo trovare un metodo per avvicinarmi a Vinci! Devo subito trovare un metodo! Cosa? Un pirata! Diavoletti! Qui c'è un pirata! Aiuto! Oh no! Guardate! C'è un pirata! Aiuto! Ah! Sta prendendo Vinci! Ah! Vinci! Vuole prendervi! Aiuto! Aiuto! Oh no! Diavoletti! No! Ok! Io devo distrarre questo pirata! Devo distrarre questo pirata! Devo distrarre questo pirata! Oh no! Non prendere questa coda! Dai! Andiamo da quella parte! Lì c'è un'altra sirena! Guarda! Oh! Ok! Diavoletti! Sta andando a cercare un'altra sirena? Voi correte! Voi correte! Andate! Ok! Diavoletti! Stanno scappando! Stanno scappando! Corri Vinci! Corri! Potrebbe prendervi! Quel pirata stava cercando di rapire Vinci! Oh! Corri Elle! Corri! Eh sì! Questa sirena si chiama Elle! Ok! Oh! Ok! Andate! Ok! Andate! Diavoletti! Stanno andando via! Stanno andando via! Cosa? Ok! Adesso sono al sicuro! Questo pirata è qui! Ok! Secondo me questo pirata conosce un metodo! Ehi! Pirata! Non devi più cercare le sirene! Le sirene non sono in acqua! Davvero? Sì! Davvero! Ok! Questo pirata sta cercando di rapire! Ok! Stanno continuando a scappare! Ma questo pirata sta continuando a cercarli! Guardate! Vinci sta nuotando! Vinci! Nasconditi! Elle! Ok! Dovete scappare! Dovete scappare! Hai visto? Non c'è nessuna sirena! Non c'è nessuna sirena! Ok! Non devo farli prendere! Non devo farli prendere! Ma aspettate! C'è un piccolo problema! Io sono d'accordo con questo pirata! Perché Vinci ed Elle non vogliono parlarmi! Vinci non vuole più stare con me! E io non voglio questo! Ma io ho un'idea! E se diventassi una sirena? Così? Posso andare in acqua? Posso andare in acqua con loro? E posso restare per sempre in acqua! Eh sì! È un'ottima idea! Per avvicinarmi di nuovo a Vinci! Ok! Pirata! Non guardare! Non c'è nessuno! No! Non c'è nessuno! Questo pirata vuole rapirli! Vuole rapirli! Ok! Pirata! Conosci un modo per diventare... Una sirena? Una sirena! Sì! Una sirena! Cosa? Conosci un modo? Sì! Ok! Questo pirata conosce un modo! Dai! Chiediamo a questo pirata come si diventa una sirena! Io non avrò più le gambe? Eh sì, diavoletti! Non avrò più le gambe! Ok! Come si diventa una sirena? C'è un modo! C'è un modo? C'è un modo! Ok! Quale modo? Devi trovare una corona! Devi trovare una corona? Sì! Ok! Allora possiamo cercarla insieme? Sì! Ok! Stiamo andando a cercare la corona? Eh sì! Questo pirata sta cercando la corona! Guardate! Sta cercando la corona per farmi trasformare in una sirena! Eh sì! Anche questo pirata vuole farmi trasformare! Perché secondo me... Vuole rapirmi! Eh sì! Vuole farmi trasformare e vuole rapirmi! Ok! Secondo me dobbiamo cercare la corona da soli! Eh sì! Troveremo la corona da soli! Diavoletti! Se io troverò la corona... Mi trasformerò in una sirena! Eh sì! Mi trasformerò in una sirena! E vai! Dobbiamo solo trovare la corona! Dov'è la corona? Io voglio andare in acqua con Vinci! Eh sì! Voglio andare in acqua con Vinci! Mi manca molto Vinci! Ok! Non devo iniziare a piangere! Non devo piangere! Ok! Devo solo trovare la corona! Devo solo trovare la corona! 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 Dove sei? Diavoletti! Dov'è la corona? Dov'è la corona? Ok! Dobbiamo cercare questa corona! Non è che si nasconde qui dentro? No! Qui non si può aprire! C'è un lucchetto! C'è proprio un lucchetto! Ok! Andiamo a vedere da questa parte! Qui c'è qualcosa diavoletti! Dobbiamo trovare la corona! No! È soltanto un secchiello! È un secchiello! E questo? No! Un altro secchiello! No! Diavoletti! Questa non è una corona! Ok! È questo? Vediamo! No! È un castello di sabbia! È solo un castello di sabbia! È qui dentro? No! Non c'è niente! Devo trovare subito una corona! Devo trovare una corona! Diavoletti! Io ho molta ansia! Ho molta ansia! Ok, diavoletti! Ho avuto un'idea! Sono entrato nella nostra stanza! Eh sì! Questa è la nostra stanza! Cioè, la nostra vecchia stanza! Perché vinci adesso! Non è più un essere umano! Quindi, adesso dovrò dormire da solo in questo letto! Ma, aspettate! Io devo trovare la corona! Quindi, adesso cercheremo nella nostra stanza! E se la corona si trovasse sotto questi cuscini... Sotto questi cuscini non c'è niente! Ok, diavoletti! Dovete aiutarmi! Dovete aiutarmi! La corona potrebbe essere anche... In quel cestino! In questo cestino! No! In questo cestino non c'è niente! Diavoletti! Sono molto preoccupato! Sono molto preoccupato! Io voglio trovare la corona! Voglio trovare la corona! E se perdessi per sempre Vinci? Io non voglio perdere per sempre Vinci! Perché adesso Vinci può andare in fondo al mare! Io non posso! Perché ho le gambe! Eh sì, diavoletti! Io ho le gambe! Non ho la coda! Mi dispiace, Hop! Vinci non c'è più! Con noi! Ok, io devo continuare a cercare la corona! Corona! Dove sei? Aspettate! Andiamo a controllare nel water! Nel water non c'è niente? No, nel water non c'è proprio niente! Ok, la situazione si sta facendo sempre più grave! Si sta facendo sempre più grave! Dov'è la corona? Sulla spiaggia non c'era niente! Oh! Non troveremo mai la corona! Cosa? Diavoletti? Guardate cosa sta succedendo lì! Io devo trovare la corona! Ma guardate! Ciao, Anto! Cosa? Sono il pirata! Chi? Stai cercando ancora la corona? Sì! Non trovi la corona? No! Io voglio aiutarti! Il pirata! Devi riuscire a risolvere questi indovinelli ed io ti dirò dove si nasconde la corona per trasformarti in una sirena! Ok! La sfida inizia ora! Ok! Diavoletti? Devo risolvere gli indovinelli? E il pirata mi dirà dove si nasconde la corona per trasformarmi in una sirena? Eh sì! Non avremo più le gambe per camminare! Ma avremo una coda super gigante per nuotare! Avete visto la coda di Vinci? Ed avete visto tutti la coda di L? Eh sì! Loro sì che sono sirene ma io devo diventare una sirena! E quindi devo risolvere tutti gli indovinelli! E adesso voglio lanciarvi una sfida! Allora adesso dovete risolvere tutti gli indovinelli con me! E se li risolverete tutti? Commentate qui sotto! Quindi questo è il primo! Eh sì! Questo è il primo indovinello! Cosa? Indovina il film! Ok diavoletti! Noi dobbiamo scoprire dove si nasconde quella corona! Eh sì! Quella corona mi farà trasformare in una sirena! E il pirata mi dirà dove si nasconde la corona! Solo se risolverò tutti gli indovinelli! Ok! Il film! Allora qui c'è... Diavoletti! Degli occhiali! Un gufo! E lì c'è... Sembra la cicatrice di... Harry Potter! Questo film è Harry Potter! Harry Potter! E vai diavoletti! Ce l'abbiamo fatta! Ok! Voi ci siete riusciti? Ci siete riusciti? Commentate qui sotto! Ok! Il vostro punteggio qual è? Uno o zero? Diavoletti? Un altro? Cosa? Questo è un altro indovinello? Ok diavoletti! Dobbiamo impegnarci! Dobbiamo impegnarsi! Dobbiamo ottenere o no la corona? Eh sì! Dobbiamo ottenere la corona! Ok! Indovina la serie! Diavoletti dovete aiutarmi! Ok! Qui c'è una persona con i capelli neri! Un cuore tutto nero! Una mano... Un po' ferita! E una scuola! Ok! Aspettate! Colore nero! Una persona con i capelli neri! La mano! Mercoledì! Eh sì! È mercoledì! Ok diavoletti! Adesso quanti altri indovinelli dobbiamo fare? Io non posso più aspettare! Se no vinci! Potrebbe andare via per sempre! Eh sì! Nell'oceano! E potrebbe lasciarmi! Io questo non posso! Non posso farlo accadere! Quindi qui abbiamo un altro indovinello! Ancora più difficile! Eh sì! Questo è difficilissimo! Devo trovare le due differenze! Ok! Le due differenze! Diavoletti! Quest'indovinello! È proprio... Tema... Sirene! Eh sì! Tema sirene! Ok! Allora qui c'è un pesce! Sì! Qui c'è un pesce! Qui c'è una sirena! Ok! Le due differenze! Ho visto la prima! Voi avete visto la prima differenza? Eh sì! Guardate! Qui c'è una forchetta! E qui non c'è! Quindi questa è la prima differenza! Ma... Dov'è la seconda differenza? Diavoletti! Dov'è la seconda differenza? Ok! Fatemi pensare molto bene! No! La seconda differenza! Io non la vedo! Non la vedo! Cosa? Guardate diavoletti! Qui ci sono delle bolle! E qui non ci sono! Eh sì! Due bolle! E qui non ci sono! Ho trovato le due differenze! Diavoletti! La forchetta! E le bolle! Ok! Ce l'abbiamo fatta! Voi avevate visto le differenze? Commentate qui sotto! Sì o no? Diavoletti! Adesso dobbiamo sbrigarci! Dobbiamo sbrigarci! Io non voglio risolvere indovinelli! Voglio subito salvare Vinci! Eh sì! Devo diventare una sirena! E non vedo l'ora! È la mia coda! Di che colore sarà secondo voi? Di che colore sarà... Cosa? Un altro indovinello! Devo trovare le tre differenze! Ok! Qui c'è un granchio! Eh sì! C'è proprio un granchio! Dobbiamo trovare le tre differenze! Ho trovato la prima! Guardate! Eh sì! Qui si manca... Sì! Manca la chela! Manca la chela! Guardate! Uno! Due! Eh sì! Qui c'è! Qui non c'è! Guardate! Ok! Ho trovato la prima differenza! Qual è la seconda? La seconda! La seconda! Oh! Guardate diavoletti! Qui ci sono... Eh... Due! E qui... Niente! Eh sì! Qui due! Qui niente! Ok! Abbiamo trovato la seconda! Ma qui ne dobbiamo trovare tre! Oh! Diavoletti! Dov'è la terza differenza? Dov'è la terza differenza? Gli occhi? No! Gli occhi sono uguali! Sono proprio uguali! Ok! Dobbiamo trovare la corona! Ok! Gli occhi uguali! Sì! È tutto uguale! Tutto uguale! Cosa? Qui c'è una pianta! E qui non c'è! Guardate! Qui c'è proprio una pianta! E qui non c'è! Diavoletti! Ho trovato le tre differenze! Eh sì! Ho proprio trovato le tre differenze! E vai! Ce l'abbiamo fatta! Secondo me adesso il pirata ci dirà dove si trova la corona! Eh sì! Io voglio sapere dove si trova la corona! Vinci! Mi manchi! Mi senti? No! Non mi sente! Vinci è sott'acqua adesso! Cosa? Diavoletti! Devo trovare le tre differenze! Altre tre differenze! Ok! Sono tutti tema sirena! Tema sirena! Ok! La prima differenza è... Guardate il tridente! Eh sì! Guardate il tridente! Manca una cosa! Sì! Guardate diavoletti! Qui il tridente ne ha tre e qui due! Eh sì! Quindi questa è la prima differenza! Ma ce ne sono tre! Uffa! Ok! La seconda differenza è che... Qui c'è una sirena! Guardate! Qui c'è proprio una sirena! E qui non c'è! Eh sì! Qui non c'è! Quindi abbiamo trovato la seconda differenza! E la terza differenza è la terza differenza! Qual è? Ok! Molto difficile! Aspettate! Guardate! Guardate! Guardate questa corona! Eh sì! Guardate questa corona! E guardate la corona da quell'altra parte! Eh sì! Qui è diversa! È proprio diversa! Quindi abbiamo trovato tutte le differenze! Eh sì! Abbiamo trovato tutte e tre le differenze! Evviva! 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 E adesso? Pirata! Dai! Basta con questi indovinelli! Uffa! Eh? Guardate! Indovina il film! Diavoletti! Secondo me questo è molto semplice! Perché qui c'è uno squalo! E qui c'è il mare! Secondo me questo è... Il film! Aspettate! Il film... Dello squalo! Lo squalo! Eh sì! È il film dello squalo! Ok! Ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta! Adesso pirata! Puoi venire qui? Puoi dirmi dove si trova la corona? Pirata! Eh? Cosa? Altre tre differenze? Ok! Qui dobbiamo trovare altre tre differenze! Diavoletti! Riusciremo a trovare le tre differenze? Secondo me questo è l'ultimo! Ok! Tre differenze! Allora qui c'è una persona! E qui non c'è! Ok! Guardate! Qui c'è una sirena! Ok! Qual è la seconda differenza? Oh! La seconda differenza è... Il tridente! Eh sì! Guardate il tridente! E guardate questo! Qui non c'è! E qui c'è! Adesso qual è la terza differenza? Diavoletti! Conto su di voi! Conto su di voi! Aiutatemi perché devo salvare Vinci! Cosa? Guardate! Diavoletti! Ho trovato l'ultima differenza! Qui c'è un granchio! Eh sì! C'è proprio un granchio! E qui non c'è! Guardate! Qui c'è un granchio! E qui non c'è! Diavoletti! Abbiamo trovato le tre differenze! Eh sì! Abbiamo trovato le tre differenze! Evviva! Evviva! Hai risolto tutti gli indovinelli! Cosa? Complimenti! Grazie! Adesso dirò dove si nasconde la corona! Dove si nasconde? Vai a cercare sotto la sabbia! Cosa? Esci da questa casa! Eh? Ora! Corri! Sì! La corona si trova sotto la sabbia! Ok! La corona si trova sotto la sabbia! Il pirata mi ha detto che... La corona si trova sotto la sabbia! Ma aspettate! Io non ho cercato sotto la sabbia! Eh sì! Devo scavare tantissime buche! Uffa! Sarà molto difficile trovare la corona! Eh sì! Sarà molto difficile! Ma in questo video io mi trasformerò! Di certo! Perché così andrò subito a salvare Vinci! Dai! Andiamo! Usciamo da questa casa! Usciamo subito da questa casa! Diavoletti! Adesso uscirò e andremo sulla spiaggia! Io devo trovare quella corona! Il pirata mi ha detto che si trova sotto la sabbia! Credete a quel pirata? Oh è una trappola! Diavoletti! Quel pirata potrebbe essere molto pericoloso! Perché potrebbe rapire Vinci! Quindi non dobbiamo fidarci neanche del pirata! Ma adesso andiamo diavoletti! Il pirata mi ha detto che si trova sotto la sabbia! La corona si trova sotto la sabbia! Ok! Dobbiamo arrivare a quella spiaggia! Andiamo! Io non avrò più le gambe! Ok! Cosa? Diavoletti! Anche voi notate qualcosa di strano qui sotto? Cosa? C'è qualcosa! Diavoletti! Sembra qualcosa di magico! Eh sì! Sembra veramente qualcosa di magico! Cosa? Diavoletti! Ho trovato la corona! Ok diavoletti! Adesso dobbiamo stare molto attenti! Quel pirata non deve vedermi! Adesso io devo indossare questa corona e devo trasformarmi in una sirena! Eh sì! Per avvicinarmi di nuovo a Vinci! Perché Vinci non vuole più parlarmi! Ok! Guardate! Guardate diavoletti! Sono sulla riva! Eh sì! Sono di nuovo qui! Secondo me il pirata è andato via e adesso possono parlare con me! Vinci! Ho trovato la corona! Eh! Cosa? No! Vinci! Guarda cosa ho trovato! Oh! Scusami coda! Ok! Guarda cosa ho trovato Vinci! Ti piace? Sì! Posso indossare questa corona? Perché no? Cosa succede se indosso questa corona? Sirena! Sirena! Cosa? Vinci! Perché non volete? Perché loro non vogliono? Ehi Vinci! Perché non vuoi? E vai! Oh no! Vinci! Adesso stai parlando? Adesso anche tu avrai la coda! Io avrò la coda? Ma non ho niente! Dai uno di noi! Cosa? Vinci! Ma tu hai la coda! Guardate diavoletti! Vinci ha la coda! Io ho ancora le gambe! E anche questa sirena ha la coda! Io non ho niente! Anche tu riceverai una coda! Quando? Quando? Ho indossato la corona! Sì! Ho indossato la corona! Ma quando riceverò la coda? Cinque minuti! Cinque minuti? Velle! Cinque minuti! Cinque minuti! Ah! Cinque minuti! E non avrò più le mie care gambe! Care gambe! Leva la corona! Non puoi diventare anche tu così! No! Io non toglierò mai la corona! Sto cercando un modo per levare questa coda ma non ci riesco! Eh? Cosa? Le mie gambe stanno tremando! Cosa? Aiuto! Diamo lenti! Ah! Adesso adesso anche tu hai la coda? Sì! La bellissima! Anche la tua è coltubella! No! E guardate la tua coda! Ok! Diamo lenti! Qui si mette il poltubellare! Adesso noi tre abbiamo la coda! Eh sì! Abbiamo la coda! Cosa dobbiamo fare? Vince! Possiamo giocare? A qualche soco! Sì! Possiamo anche fare qualche soco! Sì! Sì! Cosa ne dite? Andiamo subito con acqua! Vince! Io vado a valutare! Il mio primo tuffo! Ok! Andiamo diamoletti! Vado! Vale va! Ando subito con le... Ah! Sì! 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 Io non so sottare molto bene! Andiamo! Ok! Sì! Sto molto bene! Diamoletti! Questo è il mio primo tuffo! E' il mio primo bagno! Ok! Questo è il mio primo bagno al mare! Oh! E' molto bello! Sì! E' molto bello! Guardate! Sì! Guarda! Oh! 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 Questa coda è pulito! Certo! Ah! Tu è svenuto! Ok! Diavoletti! Dato ti ho da poco tempo la coda! Io non conosco nessuno tantissimo! Tu sai fare qualche macchina! No! Ma non conosco nessuno! No! No! Stai male! Ho bisogno delle alghe! No! No! Ho bisogno delle alghe! Ho fame! Ma che sono fincito? E gli aiutiamo a fare più delle alghe! Diavoletti! Guardate! Qui ci sono delle alghe! Ecco fatto! Diavoletti! Adesso posso mangiare! Eh sì! Posso proprio mangiare! Vieni! Molto buone! Ok! Ok! Adesso? Cosa dobbiamo fare? Io non so nuotare! Sono vinci piante! Dai! Vieni! Ok! Ok! Diavoletti! Devo andare! Devo andare! Dai! Oh! Ok! Oh! Vinci dove vuoi andare? Dai! Oh! Vinci vuole andare nell'oceano! Vinci! Non voglio! Vinci!